Grazie a tutti. Di come avvicinarci a un processo di accessibilità inclusiva mi diceva che si può fare perché c'era sempre il dubbio e la difficoltà perché è un tema estremamente complicato che abbiamo sempre visto con grandissima attenzione e anche non propriamente da vicino, però ci abbiamo sempre provato con innumerevoli insuccessi. Diciamo che viene il momento adesso di portare un'idea, una proposta e il giubileo rappresenta il momento più importante, più intenso e più significativo. Un momento di assoluto esclusivo, diciamo in prima battuta direi esclusivo. Diciamo anche importante sotto il profilo qualitativo? Bene, si parte da Roma come giubileo ma noi abbiamo insieme agli altri autoreoli partner di questo tavolo di presidenza cercato di mettere in campo l'operazione perché Roma avrà l'over turismo. Quindi dobbiamo essere attento. Qui ci sono sindaci dei comuni della costa, cioè il comune di Caeta ben rappresentato dal sindaco Leccese e dal suo vice sindaco Magliozzi. Poi c'erano altri due sindaci che sono andati via, dei comuni di Ardea e anche un altro comune. Quindi voglio dire che c'è l'attenzione di come il ruolo e anche il ruolo dei comuni costieri può supportare Roma. Perché non ci dimentichiamo che per noi gli spazi sono semplici. Se mi dicessero domani mattina fai 100 km per andare a Gaeta mi rimarrebbe complicato perché devo pensare di prendere la macchina. Invece per un certo tipo di turismo, i famosi 35 milioni che transiteranno su Roma, non è affatto difficile far questo. Bisogna però organizzare, noi siamo un po' più avvantaggiati rispetto al comune di Roma, abbiamo qualche mese in più, mi correggeranno gli amici di Caeta se sbaglio, per organizzare un grande piano di formazione, di logistica e anche di collegamento, se vogliamo, sui temi del turismo accessibile con i grandi hub, mi viene da dire l'aeroporto di Roma, di Roma Fiumicino, mi viene da dire anche l'aeroporto di Civitavecchia e tanti altri hub che possono concorrere effettivamente ad organizzare questa piattaforma. Il sindaco di Roma ha detto che bisogna lanciare un patto per il mare, bene, l'abbiamo raccolto, quando l'ha detto l'abbiamo raccolto, però partiamo da alcuni principi quali in primis l'accessibilità delle nostre coste e anche, se vogliamo, da un dialogo con la categoria. Che devo dire la verità, forse l'ho detta un po' troppo diplomaticamente, magari dobbiamo rinverdire, dobbiamo un attimo approfondire nuovamente perché se si va con una propria idea e non ci si confronta con la categoria diventa problematico andare avanti, diciamo è difficile. Quindi noi quello che diciamo, poi è presente anche il presidente di Federbaneri Roma in sala, Massimo Muzzarelli, che saluto, perché il sindaco ha lanciato quest'idea della riqualificazione del lungomare, ma noi abbiamo anche detto pronti a dialogare per un patto per il mare di Roma, è raccolta la sfida, quindi siamo pronti a metterci seduti attorno ad un tavolo in modo serio questa volta e concreto. Avremo poco tempo? Sì, sicuramente, però dovremo per forza confrontarci perché voi immaginate un giubileo senza il mare di Roma, o meglio senza l'organizzazione dei servizi. Cioè il turista che scende sulla spiaggia troverà una serie di cantieri e una serie di realtà chiuse che non sono messe né a sistema né a norma per affrontare un evento così significativo. Mi viene da sorridere. Insomma, allora dico, questo è il momento di sederci effettivamente attorno ad un tavolo e di individuare i punti di forza e di criticità da superare anche per il mare di Roma, perché lui giustamente ha sottolineato l'importanza del mare di Roma, noi lo vediamo esattamente allo stesso modo, però lavoriamo sulle infrastrutture, lavoriamo su un piano logistico serio, un piano di comunicazione del mare di Roma, perché il mare di Roma non sono solo i balneari, è tutto un contesto del mare di Roma. Poi il ruolo del sistema balneare è quello di fare turismo con serietà, come viene fatto da sempre. Ricordiamo, lo dico in tutte le sedi, sconta 4 punti percentuali di PIL il turismo balneare, quindi dobbiamo considerarlo in modo serio, corretto e in modo concreto. Quindi benvenga il piano di accessibilità inclusiva, benvenga l'opportunità che ci stanno dando anche al Ministero del Turismo, in cui saremo presto seduti insieme all'amico Stefano per cercare di trovare la soluzione e far finanziare alcuni grandi interventi o anche piccoli interventi, se vogliamo, e anche la formazione, come ci eravamo detti, sul tema delle certificazioni, ma benvenga un percorso da condividere, su un patto vero per rilanciare il mare, per rilanciare soprattutto per partire dal giubileo. Questa è l'occasione per partire e fare veramente qualcosa di buono tutti insieme. Grazie.